Ah, uffa, con questa parrucca non ne posso proprio più. Mi starà anche bene, ma è insopportabile. Ma mi dici come fanno quelle che ne cambiano uno al giorno? Come fanno? Lo fanno per vanità e sopportano. Tu per suggerimento del commissario e quindi per dovere. Lo sai? È proprio come si dubitava. Cos'hai scoperto? Tutto il marchigegno sta fra la camera 3 e la camera 4. Non ci sbagliavamo. Zitta. Sarei proprio curioso di sapere che ruolo ha quel Max Liguori in questa sporca faccenda.